Vincere è l'imperativo per lo spoltore che dopo le due vittorie consecutive con Lanciano e Delfino, al Capraresi ospita il Villa 2015, già retrocesso in promozione. Gli azulgrani inseguono la salvezza diretta rappresentata dai 40 punti di San Buceto e Renato Curiangolana. Mister Di Camillo si affida in avanti al tandem con la Sante Planamente. L'ex Simone Vitale risponde con Dincecco, Tacchi e Paravati dietro a Rossi. La prima pallagolla arriva al 14esimo, quando Planamente, da solo contro D'Angelo, non trova la porta. Con il passare dei minuti salgono i giri del motore degli Azzulgrana, che in tre minuti sfiorano il vantaggio per ben tre volte. Prima con la conclusione dal limite di Belli, che si ora è il palo lontano, e poi con la verticalizzazione di Di Camillo a cercare con la Sante, che incrocia senza successo. Alla mezz'ora, stessa sorte per il fendente di Selva Allegra. Poco dopo, miracolo dell'estremo difensore classe 2005 è D'Angelo, che sbarra la strada al tiro a botta sicura di Colasante. Monologo spoltore, al 37esimo Colecchia crossa da destra per Colasante, che si coordina in rovesciata, ma non trova la porta. Al 40esimo la difesa francavillese capitola, con una prudezza da distanza siderale di Planamente, che mette a segno la sua ottava rete in stagione. Nulla può D'Angelo, e con le immagini di mano il centurame passiamo alla ripresa, che si apre con la conclusione dal limite di Belli, che spaventa D'Angelo. Al sesso arriverà Doppio Spoltorese. Selva Allegra agisce sulla sinistra e confeziona per Colecchia, che si aggiusta la sfera e la scarica alle spalle di D'Angelo. Passano sette minuti e arriva anche il Tris, con la sfortunata deviazione di Falasca, che beffa il proprio portiere. La gara ovviamente sul 3-0 perde di ritmo, con lo Spoltore che amministra con il possesso. Poco dopo la mezz'ora, Gian Pietro scatta sul filo del fuorigioco, ma trova il muro alzato da Palena. Al 37esimo arriva il gol della bandiera, siglato da Di Giovanni, che in aria si libera bene dalla marcatura, e insacca alle spalle di Palena. Al 43esimo punizione di Dincecco, Palena sul suo palo respinge. Finisce così, terza vittoria consecutiva dunque per lo Spoltore che può respirare, e arrivare con grande fiducia allo scontro diretto contro il Sambuceto. Sì, era fondamentale vincere in qualsiasi modo, in qualsiasi risultato. Siamo stati bravi ad approcciare bene la partita, nonostante il primo tempo è finito solo sull'1-0, sbloccando il risultato verso la fine, però abbiamo avuto anche altre occasioni prima per passare in vantaggio. Avevo paura in settimana mentalmente di questa partita, essendo noi una squadra giovane, che non potessimo affrontarla con il piglio giusto, invece i ragazzi sono stati bravissimi, è stata una vittoria fondamentale. Abbiamo provato in tutti i modi comunque di portare la partita alla nostra parte, anche tenendo bene in difesa, soprattutto nel primo tempo, poi le loro capacità comunque sono venute fuori, e la partita non l'abbiamo portata a casa, però comunque siamo contenti della prestazione. Dopo il gol del 3-1 vi aspettavate di riprenderlo o almeno ci credevate? Comunque nella nostra capacità crederci sempre, quasi in ogni partita del campionato ci siamo trovati sotto, e tante volte siamo riusciti a riprenderla, quindi non l'abbiamo mollato.